Sono felice di essere qui a Santa Arcangelo, mi hanno contattato in queste settimane e già stavo valutando di venire quest'estate e poi alla fine ho deciso di andare a Merfield però sono contento perché avevo esigenza di riavvicinarmi a casa e mi hanno colpito le parole del direttore del mister e so l'ambiente che è Santa Arcangelo, so che società è conoscevo anche Sascha, Cori e Carlini con chi ci ha oggi giocato insieme e mi hanno parlato bene quindi sono contento di essere qui e iniziare questa nuova avventura e spero di dare una mano a Santa Arcangelo a raggiungere gli obiettivi A Melfi ho passato un mese un po' particolare perché ho avuto un doppio infortunio però ora sto bene, sono rientrato intorno al 10 dicembre e ora sto bene e sono pronto per giocare Le mie caratteristiche, a me piace giocare sul filo del fuorigioco, attaccare la profondità ma posso fare sia la prima punta sia la seconda punta, ecco sono a disposizione del mister